Bene, noi proseguiamo la nostra mattinata insieme, stamattina vi voglio far conoscere un ragazzo straordinario che si chiama Walter Lazzarin, lui è uno scrittore per strada, la sua è una storia molto interessante e ce la racconta personalmente nel contributo video che vi appunto favorisco in questo istante. Ciao a chiunque, mi chiamo Walter Lazzarin, alias scrittore per strada, anche se in realtà scrittore per strada è il nome di un progetto, almeno così doveva essere all'inizio, cioè da ottobre 2015 fino a nove mesi dopo, più o meno, dovevo attraversare un po' d'Italia regalando racconti e spacciando copie di miei libri e doveva essere quindi un progetto abbastanza limitato nel tempo e nello spazio. Poi la cosa si è ingigantita, mi sono arrivati molti inviti da diverse città, diverse regioni e quindi ho deciso di fare almeno un anno e di attraversare tutte le 20 regioni d'Italia. Alla fine però il progetto è andato così bene che quando mi sono trasferito a Roma, nell'ottobre 2016, è diventato una sorta di mestiere, un mestiere che tra l'altro svolgo tuttora e quindi direi che non è più semplicemente un progetto scrittore per strada, ma è il mio nome artistico. L'idea mi è venuta un po' per caso, nel senso che nel 2014 ero un po' in difficoltà, volevo rivoluzionare la mia vita, ero un insegnante precario, ero un po' stufo di essere precario, giocavo a calcio, mi facevo male praticamente ogni anno e avevo quindi l'esigenza di trovare qualcosa di diverso, che unisse le mie due principali passioni, scrittura e viaggi. Quindi ho segnato su un foglio cose che potessero convertirsi in una grande idea e alla fine, non so quanto grande, ma mi è venuta l'idea di partire appunto con una macchina da scrivere e farmi conoscere il più possibile come scrittore e magari anche, l'altra idea del progetto, avvicinare persone alla scrittura, in particolare alla narrativa. Sono partito da Roma appunto nell'ottobre del 2015, sono stato più o meno un mese e mezzo e poi a gennaio sono sceso in Sicilia. Faceva freddo, in Sicilia no, e da lì ho cominciato la lenta risalita d'Italia. Quindi dopo Catania, sono stato a Reggio Calabria, Precosenza, poi la Basilicata, in particolare Matera, Policoro, poi la Puglia, Molise e così via, facendo appunto una città almeno per regione. E ovviamente ho visto un sacco di posti che anche non avevo visitato prima, perché negli anni precedenti spesso cercavo di fare con gli amici, regioni all'estero e molte località italiane le evitavo, perché mi dicevo che tanto avrei avuto tempo per visitarle. Si dice sempre così e poi si finisce per non andarci mai. Invece così ho avuto modo di conoscere meglio questo bellissimo paese e soprattutto ho avuto modo di capire quanto la gente, se vuole, è accogliente. Ho avuto un sacco di gesti di affetto, un sacco di ospitalità, offerte di ospitalità, da persone di ogni regione d'Italia. E quindi in qualche modo per me, scrittore per strada, è stato non solo un modo per farmi conoscere come scrittore, ma è stato un vero e proprio viaggio di formazione, che in qualche modo mi ha cambiato idea. Qua cito una canzone sulle cose e sulla gente. E ne sono uscito, devo dire, in qualche modo cambiato. Spero in meglio. Il progetto è continuato fino, più o meno in modo identico, senza intoppi, fino al gennaio-febbraio 2020. Poi è arrivato il virus cattivo e da lì in poi mi sono praticamente bloccato. Come chiunque, sono stato a casa per dei mesi, bloccato. Poi ho ripreso, soprattutto verso giugno 2020, ma di nuovo sono subentrate poi le chiusure, le zone rosse, le zone arancioni e io testato come sono, però mi sono detto no, non voglio che questo progetto muoia. E da lì ho cominciato, tornando però a vivere a Rovigo, che è la mia città, a girare per la provincia di Rovigo, per i piccoli paesi, per i piccoli comuni, chiedendo i permessi agli amministratori con la bicicletta. Quindi mi spostavo da Rovigo, facevo 20, anche 40, 50 chilometri, raggiungevo questi paesi, ci si trovava tutti lì attorno con la mascherina e anche lì regalavo racconti e spacciavo libri e devo dire che soprattutto in quel periodo così difficile ho capito che scrittore per strada era qualcosa che ormai faceva parte di me e che non ci volevo rinunciare. Poi sono tornato a vivere a Roma, da settembre 2021, mi sono preparato per il concorso docenti, ma ho continuato a fare scrittore per strada e tuttora lo faccio ogni weekend. Un paio di settimane fa ero a Milano perché stavo tenendo un corso di scrittura in una scuola primaria e poi ho deciso nel pomeriggio di posizionarmi ho scritto un post sulla mia pagina facebook scrittore per strada e quel post, non so bene perché, è diventato virale. Grazie alla viralità di quel post mi sono arrivati altri inviti, ho conosciuto un sacco di altre persone e scrittore per strada sta affrontando una specie di nuova fase e io sto cercando di completare il secondo giro d'Italia. Spero che la mia storia vi interessi, vi abbia interessato, se volete potete seguirmi su più o meno tutti i social e vi ringrazio con un tautogramma finale a perché non vi ho detto io per strada regalo tautogrammi cioè componimenti in cui tutte le parole iniziano con la stessa lettera. Quindi chiudo così. Prego perché Padre Pio possa procurarmi parecchio piacere. Grazie Walter, ciao, grazie per aver condiviso con noi la tua splendida storia, la tua bella esperienza.